Ciao a tutte ragazze, oggi parliamo dello shampoo Bind the Force Architect, ovvero uno shampoo per tutti i tipi di capelli indeboliti, danneggiati, fini. Quindi una volta bagnata nella nostra cute, applichiamo una piccola quantità di prodotto, massaggiamo e risciacquiamo. Questo è uno shampoo che andrà ad aiutare la nostra cute in modo comunque da detergerla delicatamente. Mentre sulle lunghezze andrà già a dare più corposità, più forza e idratazione alle nostre punte secche e indebolite. Provatelo e vedrete degli ottimi risultati. Mi raccomando, sciacquato bene. Grazie mille, ciao!